Si svolgeranno dal 15 al 20 luglio prossimo a Camerino i campionati europei universitari di Tennis Tavolo 2019, evento che vede la partecipazione di 15 nazioni europee, 21 squadre maschili e 11 femminili, circa 200 arrivi tra atleti, accompagnatori e componenti delle varie rappresentanze europee e un ricco calendario di manifestazioni sportive collaterali. Questa nona edizione, organizzata dall'Università di Camerino e dal suo centro universitario sportivo, è stata presentata nella sede regionale, davanti alla quale ha sostato un autobus con l'immagine grafica dell'evento, dal presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, dal rettore dell'Unicam, Claudio Pettinari, dall'assessore di Camerino con delega all'Università, Stefano Sfascia, e dal presidente del CUS Camerino, Stefano Belardinelli. L'anno 2019 abbiamo iniziato con i campionati nazionali universitari all'Aquila, dieci anni dopo il terremoto. si è continuato con le università che sono in corso a Napoli e nella regione Campania, territori non facili anche se molto accoglienti, e ora questa coda di questo sport universitario e internazionale a Camerino con i campionati europei dal 15 al 20 luglio. Dicevo territori non facili, ma come diciamo noi il coraggio dello sport. Lo sport è quello dei giovani, quello degli universitari, che ci aiuta a guardare con una prospettiva molto positiva il futuro. Già alle università ci siamo divertiti, abbiamo tra l'altro la capitana Giorgia Spinelli della squadra femminile italiana che ha vinto con gli Stati Uniti d'America a Benevento, che è iscritta all'Università di Camerino. E da lì partiranno gli arbitri che verranno a Camerino per continuare con questo campionato europeo universitario. Non è facile avere assegnata una manifestazione internazionale, ora come avete visto anche con i giochi olimpici invernali occorre firmare dei contratti, assicurare dei protocolli. L'Università di Camerino aveva già fatto delle esperienze, quindi con questo buon curriculum siamo riusciti ad ottenere questa assegnazione. La cosa bella è che avremo 15 nazioni partecipanti, oltre 30 squadre di cui 10 femminili, nazioni che rappresentano tutta l'Europa, non solo quella unione europea, economica, politica che ci dà un po' di noia quando sentiamo i problemi, ma questa è un'Europa bella, quindi abbiamo insieme la Russia e l'Ucraina, territori che magari normalmente non vanno sempre d'accordo, ma da noi gli studenti universitari giocheranno e staranno insieme sul campo. Avremo la Turchia, avremo la parte turca di Cipro, quindi nazioni un po' particolari, oltre a quelle classiche l'Inghilterra, la Germania e la nostra Italia ovviamente, quindi questi giovani che si incontreranno a Camerino. Non solo un evento sportivo, tante belle serate con musica, con eventi collaterali che tengono insieme questi ragazzi. Lieti di ospitare questo evento europeo, di cui riconosciamo la forza, l'impegno e il valore educativo, ha detto in conferenza il Presidente della Regione Ceriscioli. Ancora una volta l'Università di Camerino è stata scelta per ospitare una competizione europea e ne siamo ovviamente estremamente orgogliosi. Queste le conclusioni del Rettore Claudio Pettinari. Grazie a tutti.